Vedi, è un'altra per arrivare prima in lane, no? Sei al 2 Ok, d'accord Perchè non l'hai mutato? Eh, lo stavo facendo da qua Ah, ti sei ora che possiamo pusharmi 6 volte? Certo Ok, non l'hanno nerfato, pensavo fosse più Scraus, invece l'hanno nerfato Non l'hai stato mai nerfato, io non so quando tu l'hai visto nerfato, sincero Non lo so, mi ricordavo non facersi un cazzo i danni, invece li fa Mi ero dimenticato che WQ e one shot hanno tra un po' Eh, no, no, non è nico questa Aspetta Aspetta Affanque, stavo giampando, stavo Tu mi aspetto di tirare la E per vettare lo stu Eh, non puoi, ho parlato che sconda la E, no Sì? No Io l'hai detto una da Kedri Io li becco Io pure Tanto Nikon non ha mano Ti dobbiamo affricciare il gioco, ok Allora, mi dicevi un attimo che la lane, la vedete come era? Cioè, è fortissima, Galio Pantheon, tranquillo Quanto potremmo marciare? Mmm, ancora mia dubbio Appena avrai la A, che ti apriamo il 6, fidati che ti diverti A parte che c'è Pantheon, quindi non può fare schifo Pantheon preme W e Q e... Però non può uccidere una persona, quindi c'è Mmm, non sempre Sì, sempre Proprio perché loro non sono di vita, cioè non vanno di vita Ma un champ che ha la vita, io non lo squaglio così Ah, io Eh, c'è Nikon Probabilmente Mi sa troppo No, non è vero, no, non è vero No, 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 sono minion veri, Galio Scherzavo, Nikon devo ancora arrivare Ah, io l'ha baito L'ha ribaito Hai vision? Mi fa Che hai paura Che hai paura No, la stavo vedendo, la stavo peitando con le trappole Sei morto? Sì, che sei morto No Non ci sa Poglia l'app pure, sei un mostro sato No, però ma pensavo che, scusami Ah, eri morto, eri proprio scontato, molto Sì, 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 certo No, non, 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 non è vero la posizione per corrare 120 di saluto in all'arte alial il big the night togli il 40 per cento la pittoria gravi docci scusa quante volte ce l'ha il flash ha già la seconda volta che lo so beh o l'ultimo vuoi andare sotto terra per cazzo di ruolo dire ma non è venuto qua c'è nico ma non volevo prendere la nico falsa io volevo prendere ma vabbè è morta anche noi c'è il flash gira di flash a doppio v non ne voglio ho capito 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 la tua morte si ma ci serviva per una combo inutile c'è un minio l'hai frizzato un minio l'hai frizzato un minio l'hai frizzato ehi bro aspetta che non non giuro non sapevo che eri già la pieti di andare in via a cazzo intanto io ho rotto il culo colpo ma spero il 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 anche tu lo chiamiamo ho anche doggiori un cibo all'ammerdoso so che lanciano era di occupare su di te te non posso fare una massa parte non so se stai questa ma sono io posso stare posso stare solo su di te e tu poi ultimare non è colpa mia io ho intanto male io l'ho presa si tu devi usare qua lui tu stai qua hai urtato qui vuoi predicare un po' il loro movimento perchè loro tanto erano costretti a scappare per di là e invece stava qua caseline valla a capire e appunto se vissi fosse andato qua lei continuava a scappare per di qua io ultimi facevamo doppia no caseline non l'avresti presa io ho preso nico poi si vuole via a farlo quindi se tu stai si sta cosa che però io stanno e lei va indietro non ha senso ah mi ruote tanto tranquillo e anche quelli che vogliono in demora a Grazie a tutti. Grazie a tutti. E muori con la ulti. Lo faccio? E' la nostra... Vai uomo! E' lì? Vabbè rimane di sicuro tranquillamente. No, no, rimane tranquillamente. E' proprio tranquillissime, proprio. E' così. Hanno aspettato che ci beccassero proprio la mia ultima. E' proprio la ulti di... Oh mio Dio, sono WV che la devo ricliccare, non lo scordo sempre. Cosa serve il Kraken su Kaka Karina, hai detto? Kaka Karina. Va, ci va, ci va, ci che c'ho l'ulti. E io no. Ah, c'è Jorban. No. Ma non ho fatto un cazzo perché stavo in me, ero strato a stopper, ma non ho. No, no, l'ulti di sua serve per bloccare e isolare i cento da... Serve proprio a quello che non ha fatto. Ciao, Loki. E' morto tu, non si è morto tu. Dov'è? Non mi importa. E' sta di sotto. Ho sbagliato, ho pregiuntato a mano. Amati, davvero. Ah, non so. Eh, arrivo! No, lo sapevo. Figliagli, troia. Questa squadra è un po' di nuovo. No, mi ero dimenticato che l'ulti sua è tracciata. Dico, arrivo, sono da pallo prima così. Ero in doppia voi, non potevo seguire. No, 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 ho fatto un cazzo. Eh, no. Io l'ho urlto il 25. Oh, no. Oh, vai, Mega, R. Ci penso io, Vega, va. No, no, non ho l'ulti, perché era spiegata. Bravo, Vega. Perché te ne stai andando? Non lo so, Vega, se ne va. E tu sei, se che è brutto. Vacci. Sì, non ho l'ulti per segnirti. Vabbè, sono arrivato per piedi. Ah, ho sparato l'ulti per quello che ha già detto. Ah, che bello. Purtroppo, cioè... No, io sono andato dietro e ho fatto l'hai. Io, infatti, è morto prima. Ho ucc... L'ho ucciso io. Il più tanto te l'ha fatto la doppia a tu. Ma vuoi rimanere uscire, sicuro? Anche quanto cazzo è lungo il sole. Ho sbagliato tu. Guarda, mi uccide, mi sa. Dai, i minni, mi ucciderò. Ma a me che cazzo me ne ho provato. Ma dà, ma sono andato nel muro. Ma chi cazzo... Chiudi lo, sta qua. No, mi mi... Non l'ho visto. Non l'ho minimamente visto. C'è stato, mi ha già assoprato. No, 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 visto che c'è stato prato tranquillamente. Mi sa che qua era un brano, mi ha frattato a doppia fu in bocca. Ah, no, i minni non sono stati primi. Vabbè. Ma, ok, no, come ti permetterò tanto credo. E poi, dove mi chiedono spuntati. E' morta. So solo questo. Niente, poteva essere più io, no, no, niente. Andiamo a farci il braghetto. No, no, c'è una gate in una 4k. 5-9 che dà 5-100 gold. 5-700 gold. Mo' frighi Entwicklung di entra Patreon. Mi metti davanti. Ci ha provato. Ah beh, ma era inutile karma lo scudo che ti posicura più di gius Cristo. L'ha mai con preso i brazzi. Ho preso quella ecco, è troppo forte. Come lei ha preso la particularly. Troppo fortissimo. o questo pochino in casa si chiama sto qua un coglione c'è un pochino per fare i tuoi e sbalzare catarina non l'ha fatto è morta mi dispiace vabbè ce l'hai l'ulti si non sprecarla stai va beh se lo fa infatti se lo facciamo allora adesso tu becchi fede si fai va vai 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 veloce oh boom una morte vai sei morto fortissimo io ho preso anche catarina con la mia ultima è ucciso chedi eh vieni qua tutt'una guardalo parlo 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 è andata oh non ti ho il top arrivo eh ho stato un po' tardi eh non è colt'utare hai coltato un po' tanto tardi mi ha fatto morire Non è Ci mette 5 secondi a voltare Venta GG 18, 6 Eh non lo so Almeno quanto ho finito Non lo so Bobo GG